Il Torino Pride, il cui claim 2015 è Orgoglio e pregiudizi, è un momento rivolto a tutta la cittadinanza che coinvolge ogni anno diverse decine di migliaia di persone. Il programma della manifestazione, organizzata dal coordinamento Torino Pride LGBT, che si svolge il 27 giugno in occasione della giornata mondiale dell'orgoglio LGBT, è stato presentato a Palazzo Lascaris. 27 giugno, non è edizione del Pride a Torino, ma in realtà 15 città italiane che si mobilitano. Sì, 15 città italiane che si mobilitano, tutte per chiedere la stessa cosa. Esattamente sul solco di quello che è accaduto l'anno scorso, l'Onda Pride in Italia si muoverà e si sta muovendo per chiedere diritti che in questo paese ci vengono negati.